Presentazione ufficiale alla Camera dei Deputati per Io Ponzio Pilato di Bisenti, volume firmato da Graziano Paolone e Angelo Pansone che ricostruisce per la prima volta con metodo storiografico la leggenda popolare che vuole il prefetto romano nativo della paese in provincia di Teramo. Silvana Ferrante. È una storia che affascina e che potrebbe portare ad una grande riscoperta del territorio di riferimento. Ponzio Pilato, il prefetto romano passato alla storia per la lavata di mani quando si doveva decidere sulla sorte di Gesù, sarebbe originario di Bisenti in Abruzzo. Una leggenda che per la prima volta gli autori affrontano con metodo storiografico in un percorso che alla fine sfocia nell'ipotesi contenuta nel titolo, ovvero la provenienza di Pilato dal paese del Teramano. Un dato che potrebbe rivelarsi di grande risonanza. Il deputato 5 Stelle Antonio Zennaro, promotore della presentazione del volume a Roma, sottolinea l'importanza dei possibili effetti collegati. Un'opportunità per far conoscere Bisenti, ma anche tutto l'Abruzzo, qui a Roma alla Camera dei Deputati. Un'occasione per valorizzare storia e cultura della nostra regione. Associarsi alla storia dell'impero romano, una storia come quella di Ponzio Pilato, conosciuta in tutto il mondo, un'occasione importante di rilancio della regione Abruzzo.